Buonasera a tutti, siamo qui per questo evento speciale al Cinema Eden Edensam con Paolo Cochi, siamo riusciti ad acchiapparlo in tempi veramente stretti, l'avevo subito contattato su Facebook sul suo gruppo che porta avanti per divulgare la sua ricerca sul mostro di Firenze e guarda caso è una citazione possiamo dirle che è il salto del capretto citando Pietro Pacciani e nulla ci tenevamo a organizzare un evento di questo tipo portando proprio Paolo qui presente, giornalista freelance, documentarista che si occupa in maniera trasversale di tutti quelli che sono i cold case italiani, non soltanto il mostro di Firenze dal delitto Narducci, pensiamo al delitto di Via Poma fino anche al delitto Pasolini, però visto che il mostro di Firenze ormai si è innervato come una vera e propria mitografia non solo italiana ma soprattutto regionale, noi siamo qui in Toscana quindi abbiamo toccato con mano, io forse non ero neanche nato, sono nato l'anno dell'ultimo delitto quindi pensa un po', però comunque ha affascinato o anche spaventato per quella che è stata forse una serialità quasi di stampa americano che ha toccato il nostro territorio, abbiamo scelto proprio di invitare Paolo per un semplice motivo perché è stato uno dei giornalisti ricercatori che ha affrontato il caso in maniera prettamente scientifica, cioè chiaramente non si è mai lanciato in sovrainterpretazioni ma ha cercato di affrontare quello che è il cold case per eccellenza attraverso le prove in maniera proprio oggettiva possiamo usare questo termine, quindi siamo molto contenti che qui con noi la notte è lunga e faremo questo viaggio, questo excursus nel mostro di Firenze, lui ci racconterà quello che noto o quello che meno noto anche agli appassionati non e poi ci troveremo a parlare con qualche domanda anche spero che il pubblico possa intervenire per vedere a che punto siamo anche in questo caso che sembra sempre riprendere vita di decennio in decennio, quindi grazie Paolo di essere qui con noi Grazie a voi Grazie a voi Ah non rimani tu? Sì dai Grazie di essere venuti appunto come diceva Marco un caso sempre pulsante quest'anno sono 50 anni dall'inizio di questa vicenda esattamente nell'agosto del 68 iniziava con il primo delitto di di Antonio Robianco e Barbara Locci Castelletti di Signa la storia, la vicenda del mostro di Firenze una vicenda che in 50 anni è stata caratterizzata a parte gli otto duplici omicidi del cosiddetto mostro da una serie di cose incredibili a livello di indagine, a livello di giudiziaria, di processi quindi sentenze di colpevolezza, soluzioni, controsentenze, indagini prima il mostro era Pacciani, poi prima ancora erano i sardi, la pista sarda e quindi furono messi in carcere vari personaggi poi scaggionati dal mostro che uccideva, mano a mano dopo abbiamo avuto Pacciani che prima viene condannato poi assolto muore in attesa di giudizio ecco questo è un dato che non tutti sottolineano perché nell'immaginario collettivo il posto di Firenze dice a Pacciani i compagni di Verende no, non è finita così neanche giudiziariamente perché Pacciani muore prima del giudizio quindi muore in attesa di giudizio con l'ultima sentenza che era di assoluzione mentre vengono condannati i complici di Pacciani condannati i complici di Pacciani solo per quattro duplici omicidi quindi non si sa gli altri precedenti chi li ha fatti quindi da un punto di vista giudiziale è un casino è un casino quindi hanno poi seguito altre indagini altri processi sui mandanti che è un'architettura non propriamente idonea a casi di delitti a sfondo maniacale a sfondo sessuale quindi non si è mai visto al mondo non c'è un caso dove esistono più persone ad agire sotto un mandante per una serie di delitti a sfondo sessuale non esiste in letteratura quindi questo proposto dalla procura fiorentina dell'epoca è anche attuale mi pare perché non credo si sia cambiata idea è un teorema che non esiste al mondo è un teorema che potremmo anche accettare se avessimo le prove il problema è che non ci sono queste prove quindi è rimasto sospeso anche da un punto di vista giudiziario e questo ha fatto sì che negli anni sono nate tutta una serie di teorie ne ho contate circa una decina l'una diversa dall'altra su chi era il mosto di Firenze se era una persona, più persone determinate persone con l'appoggio di altre quindi ogni anno noto che specialmente i giornali poi determinati giornali e trasmissioni televisive di basso livello propongono in estate un nuovo mostro l'altro anno c'era c'era il legionario con un altro medico poi è rimasta così per un anno non abbiamo saputo più nulla quest'anno c'è stato le rivelazioni di Izzo che conosciamo tutti come il mostro del Circeo che ha detto determinate cose per i scontri fino adesso non se ne sono avuti e poi c'è stato l'uscita di quel giornalista che avrebbe raccolto la confessione addirittura che sarebbe un signore di origine americana che non solo era il mostro ma era anche Zodiac quindi con un colpo ne abbiamo presi due questo è insomma il quadro abbastanza desolante dell'attuale situazione del mostro di Firenze ora andiamo su un classico che è il classico comunque dell'identikit l'identikit per eccellenza è quell'immagine quel disegno dove tutti a volte anche fantasticano ora prendo l'esempio sempre visto che ormai va di moda il parallelismo di Zodiac comunque Zodiac uno con capelli corti montatore occhiali anni 60 magrolino potrebbe essere circa il 50% degli uomini della California degli anni 60 qui già il mostro di Firenze inizia a avere già poi volevamo anche cercare di capire questo identikit da cosa viene fuori no si sembra comunque una persona quarantina cinquantina c'è ovviamente chi ha cavalcato la pista compagno di Merendi diceva assomiglia al Pacciani c'è chi adesso ci vede il leggero vigilante questo identikit è qualcosa di reale inizio era alto dall'1,80 in su quindi Pacciani era 1,65 vigilanti 1,85 dei vigilanti non parlo perché è indagato quindi non si può fare non si può fare quindi mi dispiace Pacciani era 1,65 i spari sul furgone dei tedeschi hanno un'altezza media di uno sparatore di 1,80 minimo come le impronte di ginocchio sulla panda del delitto dell'84 di Rontini e Stefanacci quindi qui già da qui già nasce l'esigenza dell'accusa di trovare un complice alto almeno 1,80 Vanni preciso ma anche quindi tu non puoi neanche parlare delle ultime risvolte tipo se bevi l'acqua non è indagato quindi su questo potremmo parlare in teoria no se bevi l'acqua non è indagato volevo parlare chiaramente sempre che sappia io no certo allora possiamo parlare no sempre per cercare di tornare ai tempi moderni chiamola così no anche perché comunque vedendo questo questo nuovo ritorno del mostro attraverso ripeto un crossover tra Zodiac mostro di Firenze che penso neppure Netflix no possa immaginare una cosa di questo tipo comunque Joe Bevi l'acqua è un comunque un personaggio che qualche interrogativo nessuna volontà comunque di puntare l'ito ci mancherebbe siamo qui per parlare però quando giustamente accennavi a chi ha visto e ha accusato Pacciani di essere presente nel luogo del delitto noi sappiamo che Joe Bevi l'acqua nel 94 se non sbaglio fu testimone però fu testimone sbagliando un po' di cose poi può essere e quindi lasciando stare Zodiac che vedo molto improbabile la cosa comunque un personaggio interessante o perlomeno una nuova figura che si aggiunge a questa infinita mitografia quindi Joe Bevi l'acqua lasciando stare la parte americana onestamente ha detto qualcosa che non tornava diciamo innanzitutto come nasce il discorso nasce da un giornalista della rivista Tempi che avrebbe raccolto uso il condizionale perché ovviamente gli atti di indagine non si conoscono avrebbe raccolto questa testimonianza che questo signore avrebbe confessato di essere l'autore dei delitti dello Zodiaco e mi pare di aver capito anche quelli del mostro di Firenze entrambi quindi da questo nasce un po' il discorso e qual è la domanda scusa? Joe Bevi l'acqua lasciando stare comunque il caso che sto rilanciato qualche mese fa che effettivamente trova il tempo che trova siamo onesti poi ognuno è libero di esprimere la propria opinione e dire anche che Jack lo squartatore comunque Joe Bevi l'acqua però Joe Bevi l'acqua già a suo tempo la sua testimonianza creò qualche punto interrogativo sia sbagliando l'orario in cui venne a sapere dell'omicidio e anche questa certezza di indicare di aver visto Pacciane in luogo del delitto cioè lui è uno dei pochi che dice Pacciane l'ho visto lì agli scopeti quindi è un personaggio comunque per lo meno interessante mi permetti di fare una premessa prima di parlarti di questo perché ho avuto e sto avendo una già ho avuto una brutta esperienza della trasmissione chi l'ha visto tagliato proprio parlando di questo fortunatamente qui siamo in diretta e credo che nessuno possa tagliarci e quindi posso esprimere questo concetto no perché il discorso è che la trasmissione chi l'ha visto non solo ha tagliato la mia intervista ma deformato quello che era il mio pensiero nel senso che mi hanno chiesto chi fosse la stessa domanda tua Gio bevi l'acqua mi hanno chiesto che ruolo aveva il processo Pacciani hanno preso un pezzettino e l'hanno inserito e per arrivare al discorso del giorno di scopeti quindi dell'omicidio dei due francesi io ho premesso chi era bevi l'acqua che cosa ha detto il processo per arrivare propedeuticamente per arrivare a dire che cosa che bevi l'acqua si sbaglia perché sbaglia giorno quindi sono stato tagliato e inserito esattamente al contrario di quello che io stavo affermando e quindi poi con la trasmissione di chi l'ha visto ci saranno poi delle delle questioni di altra natura e premesso ciò che è una cosa molto scorretta giornalisticamente io posso dire che quello che ho dissi al giornalista di chi l'ha visto Giuseppe Bevi l'acqua era un testimone che si presenta spontaneamente dopo sette anni dicendo di aver riconosciuto in Pacciani una persona che si aggirava poco lontano dalla piazzola di Scopeti ma non vicinissimo un po' lontano però non viene ritenuto attendibile perché racconta dei dati piuttosto imprecisi ecco questo del giorno racconta dei dati imprecisi relativamente all'ubicazione di dove era la ragazza con la tenda descrive la ragazza con i capelli corti mentre non aveva i capelli corti aveva i capelli lunghi e quindi dà delle indicazioni dice io abitavo a poche centinaia di metri infatti era vero però dà delle indicazioni che non convincono perché non corrispondono alla realtà dei fatti e quindi viene spunto come testimone detto questo ci fermiamo perché bevi l'acqua è stato tirato in ballo e quindi da un giornalista e io ho parlato con con il suo avvocato il quale non mi ha detto che non rilasciava interviste e che si sarebbe attenuto ai vari passaggi quindi credo abbia fatto querela io non ho seguito più la situazione e quindi non mi sento di esprimere un'opinione su una persona che conosco solo pochissime cose insomma ma però mi sa mi sa un po' di scupe estivo questo di chi l'ha visto cioè molto di scupe estivo perché hanno tirato fuori una lettera che tra l'altro gli ho dato io del 1988 che arrivò una lettera alla vecchia redazione a un giornalista Paolo Vagheggi della della Repubblica dove arrivò una lettera dove c'erano un segno dei segni astrali e loro io l'ho data al giornalista di chi l'ha visto dicendogli che è accompagnata da una perizia della polizia scientifica che non la attribuiva al mostro quindi era stata scartata e loro ci hanno fatto sopra un servizio dandogli invece valore cioè dandogli un po' diciamo usando il condizionale sicuramente però creando un'enfasi intorno a questa lettera che in realtà non dice assolutamente nulla ma mi sa di scupe estivo questo servizio di chi l'ha visto grazie a tutti